FART è uno spazio di arti visive contemporanee ed è interessato alla diffusione, alla formazione e alla produzione dell'arte contemporanea. È uno spazio attivo da un anno e mezzo al centro dell'Aquila e come scopo ha quello di mettere in rete altissime professionalità dell'arte contemporanea con la convinzione che l'Aquila oggi debba vivere di visioni. E a Palazzo Lucentini Bonanni in piazza Regina Margherita, FART ha portato in scena la mostra che si chiama Luco. Per quanto riguarda l'arte contemporanea, l'Aquila oggi come la possiamo collocare? Io credo che negli ultimi anni c'è una bellissima vivacità, la presenza di grandi istituzioni come anche il Maxi, ma anche istituzioni indipendenti che lavorano da tanti anni. Fa la differenza su un territorio che oggi può aprirsi all'arte contemporanea in maniera globale, perché stranamente oggi è più nei centri piccoli che si trova fermento che nelle grandi città che soffrono un po' di esasperazione. Che tipo di mostra è questa? Questa è una mostra che è nata partendo dall'idea della 729esima perdonanza celestiniana. Ci siamo domandati che cos'è nel contemporaneo, nella nostra società, il senso del sacro. E quindi che cosa tra il rito e tra la credenza, tra la religione o le nuove religioni, oppure la nuova ecologia, che cosa è sacro oggi? Per questo abbiamo preso Luco, abbiamo mutuato lo spazio sacro dei romani, quindi quello che era il bosco sacro, e ci siamo domandati ma oggi la sacralità dove risiede, dove sta? A questo hanno risposto 23 artisti internazionali di cui abbiamo allestito le opere su tre sedi in una sorta di trekking artistico attraverso la città che parte da Palazzo Bonanni e arriva fino allo spazio Fart in via San Francesco da Paola.